Musica Ciao a tutti ragazzi sono Zanzo bentornati sul mio canale Oggi siamo nel 74esimo episodio della serie principale di Minecraft C'eravamo lasciati nel precedente episodio qua fuori dalla magione E oggi ragazzi andremo all'interno della magione e cercheremo di sconfiggerla Diciamo di conquistare tutto quello che possiamo conquistare appunto all'interno di questo nuovo dungeon Che è stato introdotto se non ricordo male con la 1.11 E ragazzi mi sono già sistemato un po' l'inventario Naturalmente nel baule lascio la scatola di shulker rossa Che contiene tutte le armature e le armi aggiuntive Nel caso in cui dovessi morire almeno un qualcosa con cui rientrare Teoricamente potrei lasciare anche un paio di mele d'oro Giusto per avere una sicurezza nel caso appunto in cui dovessi morire Ho già settato lo spawn qua fuori Questa crafting table lasciamo qua Lasciamo giù magari anche la mappa In modo che non rischiamo nulla La pietra portiamocela dietro Ci può sempre servire Lasciamo giù questi razzi che tanto non ci servono Mettiamoci le mele d'oro qua vicino E io direi che siamo pronti per entrare Allora l'ingresso se non ricordo male era in questa zona qua Ho letto nei commenti tra l'altro del precedente video Che mi avete consigliato una volta trovata la zona Con l'evocatore di non ucciderlo Perché se lo uccidiamo poi non respawna più E quindi so cazzi Eeeh ascemo Allora la prima volta che sono dentro ha una magione Non so come funzioni Allora mettiamoci le torce nella mano sinistra What the fuck Tappiamo subito qua che non voglio cadere di sotto Ok Cerchiamo di stare sempre a distanza di sicurezza da tutti Tanto abbiamo l'arco con infinity Quello è un creeper quello là in alto Eeeh no Sembrerebbe un albero Proseguiamo in questa zona Oddio mio ma quanta gente c'è Oddio che mira di merda Raga Allora pietriamo giù delle torce Qua non c'è nulla Sembrerebbe non ci sia nulla Io cerco di farmi un po' tutte le stanze raga Ok qua già vediamo Sembrerebbe esserci qualcosa What the fuck Allora lì c'è un ragno C'è dell'acqua Cos'è tipo la sauna della magione Cerchiamo di capire bene Madonna quanta gente c'è qua dentro Naturalmente ho seguito il vostro consiglio Oh mi stava doggiando l'arco La freccia E mi sono messo la chestplate Prima di entrare Perfetto Tre colpi ci bastano sempre per uccidere tutti Questo Oddio È la faccia tipo di un villager Questo cos'è tipo il suo bastone Una cosa del genere Nel frattempo mangiamo Cerchiamo di tenere sempre la salute al massimo Raga ma qua dentro c'è qualcosa Sembrerebbe di no Sembrerebbe di no Comunque raga Al massimo Fatemelo sapere Se ho lasciato indietro qualcosa E lo verremo a riprendere Magari in futuro Anche perché io avevo in mente di fare Una sorta di collegamento Nel nether Che ci portava fino a qua Scrivetemi nei commenti se È una buona idea O se effettivamente la magione Una volta che l'abbiamo esplorata tutta Non ci serve più a nulla Se non Come zona Diciamo dove Poterci trasferire Però naturalmente È abbastanza lontana da casa Allora qua c'è un botto Ok qua c'è una chest Un po' di robe Io prendo tutto Tranne quello che non mi serve Avezzo de merda Anfame Ascemo de merda Con la Con l'ascia mi sta amenando questo Mi dimentico sempre Ogni volta Che quando switcho Dalla pixelmon Alla serie principale Di cambiare la lingua Perché la pixelmon La gioco in italiano Naturalmente Questa devo giocarla Invece in inglese Piazza giù Sto blocco Così Non ci rompe più la minchia Allora dentro a sta stanza Non c'era nulla Quindi proseguiamo di qua Questa qua È un'altra stanza E Sembrerebbe non esserci nulla Nemmeno qua Ok Continuiamo Cosa sono ste torce Ma son buggate O son torce diverse Porca troia Da dove è apparso Oh La mortacci vostra What the fuck Minchia bene Questi mi li porto tutti via Raga Questi posso anche evitare Di prenderli a sto punto Visto che ne ho 28 Boh Cioè non riesco a capire Il senso di sta cosa Cos'è tutta sta roba Raga non capisco Cosa sono ste stanze Ehi Wewewewewewe Colpo critico Yeah Oh mi ha dato uno smeraldo Molto bene Non sto Allora mi avete detto Che le cose Importanti Sono ai piani di sopra Vediamo sto infame Doggiata la freccia Stavo dicendo Mi avete detto Che le cose importanti Sono al piano di sopra Ai piani di sopra Però naturalmente Dobbiamo visitarla bene Tutta la magione Quindi qua Abbiamo visitato Sta roba qua Boh Non l'ho capita Poi Andiamo di qua Andiamo di qua Questa stanza qua L'avevamo già vista Qui a destra C'eravano stati Quindi dobbiamo andare di qua Qui Gang bang Attenzione Raga Molto bene Che ci sono menati Tra di loro Mi hanno dato una mano Proseguiamo di qua Un'altra stanza uguale a questa Lì dietro c'è qualcuno Ho visto bene Eh boh raga C'è nel senso Non capisco Il senso di sta Di ste stanze Cioè la prima volta Che sto in una magione Quindi non so bene Cosa siano Scrivetemelo nei commenti Datemi una mano a capire Teoricamente Il primo piano L'abbiamo visitato tutto E abbastanza In modo easy Ho del carbone No Perfetto Quindi le torce Come minchia faccio a farmene Prendo queste qua Chiudiamo col bugo Non so mai che Salto dentro Con un creeper alle spalle A sto punto saliamo Di un piano Sento dei versi strani Sento La madonna Questi raga Me li porto via tutti Ok Direi che ci siamo fatti Proprio un bello stack Di libri Quindi Ne abbiamo Un bel po' Ho portato via tutto raga Tutto quello che c'era qua Li ho portati via Assolutamente A questo punto Direi Che possiamo Proseguire Vediamo in che zona Qua c'è tutto chiuso Quindi questa è una stanza chiusa Usciamo E proseguiamo Sempre in modo circolare In modo da Non saltare nessuna stanza Questo è un gatto Ok Questi qua sono gli evocatori Quelli di cui mi parlavate Che devo Non uccidere Mantenere in vita Perché Da quanto pare Mi droppano delle robe assurde E mi avete consigliato Di metterli dentro A delle barche Ok Recuperalo Questo ci può servire Magari più avanti C'è un creeper Cucù Come faccio tra l'altro Devo andarli a correre E piazzargli la barca What the fuck Che cazzo era quella roba lì Raga Ma siamo impazziti Sono proprio infami Questi robini qua Ehi Lato Visto Guarda come dodgiano Bene i colpi Se provassi a uccidolo Raga Vediamo se mi ha droppato Qualcosa interessante Ok Mi ha droppato I totem Of Of Anding Madonna Quanti ne evocano Un miliardo Tra l'altro ho visto un creeper Anche raga Guardali Ci mettono in mezzo Non esplodere Esploso Ok Troppo tardi Oddio mio Tappiamo subito il buco qua raga Però raga Non ho capito bene Chi non deve uccidere Avete detto Non uccidere E ma non ho capito chi Ok qua sotto non c'è nulla Ma ci pigliamo un po' di cobblestone Proseguo raga Ora che bella Che figa che è la luce Che entra dentro Con la shaders Qua c'è qualcosa O non c'è nulla Ok qua c'è una box Name tag Utile Tutto il resto Fa niente Ok lì sopra Non c'è nulla Se devo essere sincero Pensavo Di trovare Molte più cose All'interno Della magione Ci avevano detto Attenzione Sarà impossibile Battere La magione Io comunque Quel tizio lì L'ho lasciato vivo Perché non ho capito Se devo lasciar vivo lui O se devo lasciar vivo Qualcun altro Uccisi anche questi due Zomp Scatola C'è del grano Che è cibo Prendili tutti E quelle lì non mi interessano Anzi fa vedere Se c'è qualcosa Che posso lasciar giù Ok Diciamo che momentaneamente Così può andare Ritorniamo giù Rimettiamoci le torce Nella mano sinistra Allora Altro cibo Carbone Molto bene Qua un disco musicale Gunpowder Me la porto via No Stavo giù Mangia una mela d'oro E a te se provi a evocar qualcuno Shottato Shottato anche te E molto bene E abbiamo un altro totem Due Ah ok Non si accumula Guardate qua fuori Che figo Andiamo di qua Dove ci sono altri libri Stava rompilo Se non possiamo più rientrare Ah siamo fuori Raga Oddio La nostra base Perfetto Qua abbiamo preso tutti Cioè abbiamo ucciso tutti Abbiamo preso tutto quello Che dovevamo prendere Adesso Dov'è che era la stanza Quella dove c'era il primo evocatore Eh volevo provare Intrappolare L'evocatore Devo riuscirci raga Tanto teoricamente Dovrei essere molto più Ma vaffanculo Tiremo via una di queste Io tra l'altro Ho una targhetta E una anvil Fatemi vedere se la anvil Dovrei avercela qua dentro Piazza giù la anvil Targhetta dentro Voglio rinominare Quel mostro Là dentro E' intrappolato Pampurio Lo chiamiamo Pampurio Ok Abbiamo la targhetta Andiamogliela dare Pampurio Ok Abbiamo rinominato In Pampurio Raga Spettacolo Vieni qua Vieni qua Mazzone Vieni qua Ti spacco tutto Allora raga Io direi che abbiamo Svuotato un po' Qua la zona Abbiamo rinominato Il nostro amico In Pampurio Ce lo teniamo lì buono Non so per quale motivo Ma ce lo teniamo lì buono Scrivetemi nei commenti Comunque chi sono Quelli Che non avrei dovuto uccidere O se ho intrappolato Il mob giusto Allora Proseguiamo in questa ala Della magione Che non avevamo ancora visto Lì c'è un creepa Però noi Shotteremo Vero? No? Assolutamente Ok Vediamo se qua dentro C'è qualcosa di interessante Dammi uno smeraldino Zio Dai C'è un altro Pampurio Lì Sto qua lo shotto Però da lontano Raga Minato io non ne voglio Lì c'è un altro Ok Uno smeraldo Che mi fanno tornare in vita Nel caso in cui dovessi morire Perché l'hitbox si bugga ogni tanto Bella due smeraldi Altro smeraldo Grazie mille Più un livello di esperienza Siamo arrivati anche al termine Di questa zona della magione E non saprei Qua Non c'è nulla Di qua torniamo indietro Qua abbiamo visitato Dovremmo averle visitate tutte In teoria Io però a sto punto Sono curioso di vedere Se sul tetto c'è qualcosa di interessante Quindi torno di qua In questa zona Perché c'è la scala Che ci porta di sopra Provo ad andare al piano di sopra A vedere Se c'è qualcosa di interessante Nel frattempo il nostro amico Pampurio È sempre là Bravo Scusate raga se non vedete nulla Ma non ho torce Perfetto Riusciamo anche a dormire Top E adesso voglio provare ad andare sul tetto Della magione Di giorno Per vedere Quanto è figa Quindi mangiamo Ender pearl Ok Siamo in cima A tetto della magione Ma che ve lo dico a fare Guardate che figata Assurda C'è Voi che avete anche da ridire Sulle shaders Raga Come fate a dire Che è brutto giocare Con le shaders Guardate C'è raga Dai Spettacolo Da dove siete nati Scusate voi Dobbiamo recuperare tutte ste cose Quindi le sistemiamo un attimo All'interno All'interno Qua Degli shulker Quindi queste quattro qua Questi La anvil Il ferro Ok Siamo riusciti a recuperare tutto Teoricamente adesso dovremmo avere Tutto il necessario Per poter tornare a casa Sperando Di Di arrivarci a casa Tra l'altro Perfetto ragazzi Questo settanta Quattresimo episodio Della serie principale di minecraft Termina qua Allora io voglio finire Qual'episodio Da dove praticamente L'abbiamo iniziato Perché voglio leggere Nei commenti Se per caso Ho dimenticato qualcosa Nella magione Perché tornare a casa Per poi tornare qua È un suicidio Vi ricordo quindi ragazzi De lasciare un bel mi piace Superiamo 3000 like E domenica Uscirà l'episodio bonus Questa volta sono Convinto al 100% Che uscirà Non come domenica scorsa Che non è uscito Quindi teoricamente Potrebbero uscire anche due episodi Adesso vediamo Un commento Consigliandomi Come migliorare All'interno della serie E soprattutto Se ho dimenticato qualcosa All'interno della magione In modo da andarla a recuperare Altrimenti Se non ho dimenticato nulla Al prossimo episodio Saremo già a casa Iscrivetevi al canale Se lo avete fatto Passate in descrizione E trovate tutti i link Ai miei social Mi raccomando ragazzi Seguitemi anche su Twitter Perché voglio iniziare Ad utilizzare anche Quei social network Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Qui da Zanzi è tutto Un bel saluto E Bella